ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bocciardini in questo video ti leggo il bocciardino del farmaco torisel pizzer srl ultimo aggiornamento 7 luglio 2022 cos'è torisel confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere torisel durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è torisel torisel è un farmaco a base del principio attivo temsi roly bus appartenenti alla categoria degli antineoplastici inibitori delle proteasi e nello specifico inibitori kinase target della rapamicina nei mammiferi mtor è commercializzato in italia dall'azienda pizzer srl torisel può essere prescritto con ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile confezioni torisel 30 mg concentrato diluente per soluz per infusione uso ev 1 fl informazioni commerciali sulla prescrizione titolare pizzer europa e il concessionario pizzer srl ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile classe h principio attivo temsi roly mus gruppo terapeutico antineoplastici inibitori delle proteasi forma farmaceutica soluzione uso interno indicazioni carcinoma cellule renali torisel è indicato nel trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma avanzato a cellule renali rcc che presentino almeno tre dei sei fattori di rischio prognostici vedere paragrafo 5 1 linfoma cellule mantellari torisel è indicato nel trattamento di pazienti adulti con linfoma cellule mantellari refrattario e barro recidivante mcl vedere paragrafo 51 posologia questo medicinale deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico che abbia esperienza nell'utilizzo di medicinali antineoplastici posologia i pazienti devono essere trattati con 25 mg 50 mg di difenidramina o simile antistaminico per via endovinosa circa 30 minuti prima dell'inizio di ciascuna dose di temsi roly mus vedere paragrafo 44 il trattamento con torisel deve continuare fino a quando il paziente non stia più traendo beneficio clinico dalla terapia o fino alla comparsa di tossicità non tollerabile carcinoma cellule renali la dose raccomandata di temsi roly mus per il rcc avanzato è di 25 mg somministrati per infusione endovinosa in un tempo di 30 60 minuti una volta a settimana il trattamento delle sospette reazioni avverse può richiedere l'interruzione temporanea e barra o la riduzione della dose della terapia con temsi roly mus se non risulta possibile gestire una reazione sospetta con il differimento di dose si può ridurre progressivamente la dose di temsi roly mus di 5 mg barra settimana l'infoma cellule mantellari la dose raccomandata di temsi roly mus per il mcl e di 175 mg infusa in un tempo di 30 60 minuti una volta a settimana per tre settimane seguita da dosi settimanali di 75 mg infuse in un tempo di 30 60 minuti la dose iniziale di 175 mg è stata associata ad una significativa incidenza di eventi avversi ed ha richiesto una riduzione barra differimento del dosaggio nella maggior parte dei pazienti il contributo delle dosi iniziali da 175 mg all'ottenimento dell'efficacia non è attualmente noto il trattamento delle sospette reazioni avverse può richiedere la temporanea interruzione e barra o la riduzione della dose della terapia di temsi roly mus in accordo alle linee guida riportate nelle tabelle seguenti se una sospetta reazione avversa non è gestibile con differimento e barra o terapia medica ottimale la dose di temsi roly mus deve essere ridotta secondo la seguente tabella di riduzione del dosaggio livelli di riduzione della dose livello di riduzione della dose dose iniziale 175 mg dose di mantenimento a 75 mg meno 1 75 mg 50 mg meno 2 50 mg 25 mg e nello studio clinico per il mcl sono state consentite fino a due riduzioni di dose per paziente modifiche delle dose di temsi roly mus in base ai valori settimanali di anc e conta delle piastrine anc piastrine dose di temsi roly mus e 1,0 x 109 l e 50 x 109 l 100 per cento della dose pianificata 50 x 109 l da valutaria dopo il recupero ad una nc e 1,0 x 109 l mille cellule barra millimetri 3 e piastrine 50 x 109 l 50 mille cellule barra millimetri 3 le dosi devono essere modificate al vicino livello di dosaggio più basso in base alla tabella qui sopra se il paziente non riesce a mantenere una nc 1,0 x 109 l e piastrine 50 x 109 l al nuovo livello di dose ridotto quando le conte sono state recuperate deve essere somministrata la dose vicina più bassa abbarbiazione a nc uguale conta assoluta dei neutrofili popolazioni speciali anziani non è necessario alcuno specifico aggiustamento delle dose nei pazienti anziani compromissione renale non si raccomando alcun aggiustamento delle dose in pazienti con compromissione renale temsi rolimus deve essere utilizzato con cautela nei pazienti affetti da severa insufficienza renale vedere paragrafo 4 4 compromissione epatica temsi rolimus deve essere utilizzato con cautela in pazienti con compromissione epatica vedere paragrafo 4 4 nei pazienti con rcc avanzato e compromissione epatica da lieve a moderata non è raccomandato alcun aggiustamento della dose nei pazienti affetti da rcc ed insufficienza epatica severa la dose raccomandata per i soggetti con valori di base delle piastrine e 100 x 109 l è di 10 mg per via endovinosa una volta a settimana infusi in un tempo di 30 60 minuti vedere paragrafo 5 2 nei pazienti con mcl e compromissione epatica lieve non è raccomandato alcun aggiustamento della dose temsi rolimus non deve essere usato in pazienti con mcl e compromissione epatica moderata o severa vedere paragrafo 4 3 popolazione pediatrica per le indicazioni rcc mcl non vi è un uso significativo di temsi rolimus nella popolazione pediatrica sulla base dei dati disponibili temsi rolimus non deve essere usato nella popolazione pediatrica per il trattamento di neuroblastoma rabdomiosarcoma ioma di alto grado per motivi di efficacia vedere paragrafo 51 modo di somministrazione turiselle è esclusivamente per uso endovinoso la soluzione diluita deve essere somministrata per infusione endovinosa il flaconcino di concentrato deve essere prima diluito con 1,8 ml del solvente fornito per ottenere una concentrazione di temsi rolimus di 10 mg barra ml la quantità necessaria della miscela di temsi rolimus solvente 10 mg barra ml deve essere aspirata iniettata rapidamente in soluzione di sodio cloruro 9 mg barra ml 0,9 per cento per iniezione per le istruzioni sulla diluizione e preparazione del medicinale prima della somministrazione vedere paragrafo 66 controindicazioni per sensibilità al temsi rolimus ai suoi metaboliti compreso si rolimus al polisorbato 80 o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 61 uso di temsi rolimus in pazienti con mcl con insufficienza epatica moderata o severa avvertenze speciali e precauzioni di impiego l'incidenza e la gravità degli eventi avversi e dose dipendente i pazienti che ricevono la dose iniziale di 175 mg a settimana per il trattamento delle mcl devono essere attentamente monitorati vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti uso concomitante di temsi rolimus consumitinib la combinazione di temsi rolimus consumitinib è risultata in una tossicità legata alla dose le tossicità vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere turizel insieme ad altri farmaci come alozov aurantin soluzione uso interno aviflucox azonal canacid carbamazepina eg clamodin claritrol claritromicina accord claritromicina allus claritromicina tan claritromicina alter claritromicina doc generici claritromicina eg compressa rivestita claritromicina eg stada claritromicina hcs claritromicina exal claritromicina icma claritromicina mila generics claritromicina pensa claritromicina sandoz claritromicina sandoz gmbh granulato claritromicina san granulato claritromicina san farma compressa rivestita claritromicina teva claritromicina zentiva clarmac crinozol dactarin gel decoderm di flucan capsula di flucan polvere di flucan soluzione uso interno dintoina dintoinale di zolo e lazor fenitoina icma fru con azzolo a bici quaritromicina Rumos, Flores, Fungus, Gamibetal Complex, Gardenale, Gemiflux, Itraconazolo Doc Generici, Itraconazolo EG, Itraconazolo Milan Generics, Itraconazolo Sandoz, Itraconazolo Teva, Itragerm, Chetoconazole HRA, Chetonova, Clacid, Compressa Rivestita, Granulato, Clacid, Granulato, Clacid, Polvere, Clacid RM, Clider, Clurenice, Crutlar, Lefunzol, Loramic, Lucandiol, Luminale, Compressa, Macladin, Compressa Rivestita, Macladin, Compressa Rivestita, Granulato, Macladin, Granulato, Macladin, Polvere, Miconal, Lavaggio Barra Bagni, Micotef, Crema, Micotef, Gel, Micotef, Soluzione, Mukes, Misoline, Nixacol, Nixotloe, Nixoral, Crema, Nixoral, Shampoo, Noxafil, Compressa Gastroresistente, Noxafil, Sospensione, Posa con Azzolo Accord, Posa con Azzolo Hacl, Posa con Azzolo EG, Posa con Azzolo EG Stada, Posa con Azzolo Fresenius Cabi, Posa con Azzolo Milan Pharma, Posa con Azzolo Milan, Posa con Azzolo Sandoz, Posa con Azzolo Teva, Posa con Azzolo Zentiva, Rifadin, Rifater, Rifina, Riflux, Rifocin, Soriclar, Spendor, Sporanox, Capsula, Sporanox, Soluzione, Sunitinib Accord, Sunitinib Dottor, Riddis, Sunitinib EG, Sunitinib Milan, Sunitinib Sandoz, Sunitinib Teva, Sunitinib Zentiva, Soutent, Tedim, Tegratol, Trazer, Triasporin, Capsula, Triasporin, Soluzione, Trimicos, Veclam, Compressa Rivestita, Veclam, Compressa Rivestita, Granulato, Veclam, Polvere, Vend, Compressa Rivestita, Compresse Rivestite, Vend, Polvere, Vorricona Zolo Accord, Vorricona Zolo Aristo, Vorricona Zolo Aurobindo, Vorricona Zolo Dyrreddis, Vorricona Zolo Ibiscus, Vorricona Zolo Milan, Vorricona Zolo Sandoz GmbH, Vorricona Zolo Sandoz, Vorricona Zolo Teva, Vinc, Zamizol, Zerfun, Zoloder, ecc. Chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute, assumere Torisel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Torisel durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili barra contraccezione negli uomini e nelle donne poiché il rischio correlato alla potenziale esposizione al farmaco nella fase iniziale di una gravidanza non è noto, le donne potenzialmente fertili, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari sulla base dei dati disponibili, Temsirolimus non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Nei pazienti che ricevono la dose più alta da 175 mg per via endovinosa di Temsirolimus per il trattamento dell'MCL, la quantità di etanolo in questo medicinale può compromettere l'abilità a guidare veicoli e usare macchinari. Vedere paragrafo 4, 4. Effetti indesiderati riassunto del profilo di sicurezza Le reazioni più gravi osservate con Temsirolimus negli studi clinici sono reazioni di ipersensibilità barra da infusione, incluse alcune reazioni pericolose per la vita e rare reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio non si dispone di alcun trattamento specifico per i casi di sovradosaggio di Temsirolimus. Sebbene Temsirolimus sia stato somministrato senza problemi di sicurezza a pazienti con cancro del rene con dosi ripetute per via endovinosa fino a 220 mg barra M2, nell'MCL, due somministrazioni di 330 mg di Temsirolimus alla settimana in un paziente hanno comportato emorragia rettale di grado 3 e diarrea di grado 2. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica Agenti antineoplastici, inibitori della proteina kinasi Codice ATC L01 e G01 Meccanismo d'azione Temsirolimus è un inibitore selettivo di NTOR, target della rapamicina nei mammiferi. Temsirolimus siligad Proprietà farmacocinettiche assorbimento in seguito alla somministrazione di una singola dose di 25 mg per via endovinosa di Temsirolimus in pazienti con cancro, TACMAX media nel sangue era di 585 ng barra ml, dati preclinici di sicurezza Le reazioni avverse non osservate negli studi clinici, ma riscontrate in animali esposti a livelli analoghi o anche inferiori a quelli dell'esposizione clinica e con possibile rilevanza clinica, Sono le, elenco degli eccipienti concentrato etanolo anidro di alleato coferolo, e 307, glicole propilenico, e 1520, acido citrico, e 330, solvente polisorbato 80, e 433, macrogol 400 etanolo anidro. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, agenzia italiana del farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, agenzia italiana del farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco.